Mi hanno riferito che non appena fossi diventato maggiorenne mi avrebbe ucciso e quanto ha detto il ragazzo di 17 anni che venerdì scorso a Sansevero ha ucciso Salvatore Lombardi, 30 anni, assassinato con cinque colpi di pistola calibro 7,65. Il padre del minorenne morì a febbraio del 2021 per le gravi ferite riportate dopo essere rimasto vittima di un agguato messo a segno il primo gennaio precedente in via Mario Carli alla periferia di Sansevero. Salvatore Lombardi, in alcune intercettazioni, sarebbe stato accostato a questo delitto anche se non c'è mai stato alcun riscontro da parte degli inquirenti. Il 17enne è stato ascoltato dal GIP del Tribunale di Bari nel corso dell'udienza di convalida del fermo durante la quale il giudice, accogliendo le richieste del pubblico ministero, ha convalidato il fermo e la sua permanenza in carcere. L'avvocato Ettore Cenzano, legale del 17enne, aveva chiesto il collegamento in una comunità per minori per l'incensuratezza del ragazzo e anche perché lo sesso aveva confessato il delitto. Secondo quanto ricostruito agli inquirenti, la sera del delitto, i due si erano prima mandati dei messaggi telefonici e poi si erano dati appuntamento davanti ad un bar. Dopo aver preso un caffè insieme, i due sono usciti. Dopo pochi minuti il 17enne ha estratto una pistola facendo fuoco. Il minorenne ha sparato prima un colpo alla testa e poi ha continuato a far fuoco. Una ricostruzione è questa, confermata anche dalle immagini del video sorveglianza della zona. Il giovane magistrato ha detto che alcune persone le avevano riferito che quando sarebbe diventato maggiorenne Lombardi lo avrebbe ucciso. Il 17enne però ha specificato in aver mai ricevuto dalla vittima minacce esplicite di morte.